Un altro incidente mortale sul posto di lavoro, un'altra vita spezzata mentre eseguiva il proprio dovere. È accaduto alle 14.15 di oggi nella zona industriale di Bellocchi. A perdere la vita è stato Rodolfo Cangiotti, 49 anni, di Fano, mentre movimentava con un muletto un bancale di lana di roccia che per cause ancora in fase di accertamento gli è caduto addosso, uccidendolo sul colpo. L'incidente è avvenuto all'interno dell'azienda Profiglass di Bellocchi, dove l'uomo lavorava come operaio. Rodolfo Cangiotti, in arte dodo, da moltissimi conosciuto per esibirsi in pubblico nell'imitazione del noto cantante Renato Zero, durante serate in diversi locali della zona, stava eseguendo il suo turno di lavoro quando qualcosa non è andato per il verso giusto. Forse il pesante carico sul muletto si è sbilanciato, forse altre cause che ora l'ispetterato Prevenzione e Infortuni sul lavoro dell'Ausur dovrà chiarire, facendo luce su cosa è tragicamente avvenuto nel piazzale della Profiglass, oggi pomeriggio, che è costato la vita a Rodolfo. A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118, arrivati subito sul posto, che avevano anche allertato l'eliambulanza Icaro 02, decolata da Fossombrone e che è atterrata a pochi metri dall'azienda, che però è ripartita poco dopo alle 15 a vuoto. Per il 49enne non c'era ormai più nulla da fare. Rodolfo lascia la moglie ed un figlio.